La parola chiave è gratitudine. Il mercatino del gusto torna a Maglia per la ventiduesima edizione, La bellezza della normalità. Evento presentato a Lecce, alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico degli noci, degli ideatori Giacomo Mocioli, Michele Bruno e Salvatore Santese. La domenica, nelle vie del centro storico, artigiani del gusto, i prodotti tipici, le varie vie, quella dell'olio, dei dolci, della pasta, sarà presente per l'inaugurazione anche il presidente della regione, Michele Emiliano. Per Maglia è un atto di ripartenza dopo il Covid nel segno della tradizione e dell'importanza della cultura popolare e il sindaco Toma lo ribadisce con orgoglio. È un momento importante dal 1 al 5 agosto per la città di Maglia. Quest'anno diciamo ancora di più perché c'è una ripartenza nella quale tutti speriamo e il mercatino è una vetrina, è un'occasione imperdibile naturalmente per tutti i pugliesi, non è solo per Maglia ma per la Puglia intera. Consente di coniugare la cultura con l'enogastronomia ma oggi più che mai, consente anche nonostante le varie restrizioni di rispettare tutte queste norme anti-Covid, norme antiterrorismo, consente di fare tutto in sicurezza e dare anche la speranza per rilanciare settori che hanno sofferto moltissimo fino ad oggi.